È molto importante insegnare l'educazione stradale ai bambini. Arzignano si è organizzata in tal senso, trasformando i vigili urbani in maestri. Andiamo a vedere. Nell'educazione stradale ha trovato più bravi i bimbi o i genitori? Beh, oddio, oggi che sono qui a vedere questi ragazzi estremamente disciplinati, quindi un ringraziamento alla polizia locale che li ha educati anche in tal senso, talvolta sono anche turbolenti, li vedo circolare e spero che trasmettono questo messaggio di correttezza nel rispetto delle segnaletiche stradali ai genitori che spesso e volentieri magari sono disponibili anche a trasgredire e trasmettere anche la trasgressione, cosa che non sarebbe corretta per la nostra zona che ovviamente è anche rappresentata da un altissimo flusso di traffico sulle nostre strade. Quindi questo progetto aiuterà anche l'adulto a migliorare? Beh, i bambini, oggigiorno li chiamiamo bambini ma sono già ragazzini, trasmettono i messaggi e li invito anche a richiamarli i genitori, richiamare anche i pubblici amministratori qualora magari li trovino che non rispettano qualche divieto o qualche indicazione stradale. Pertanto onore a tutta la polizia locale e nuovamente ai collaboratori, alle maestre che li hanno seguiti in maniera intensiva e li vedo circolare e rispettano perché anch'io attraverso e vedo che sono molto attenti. Ci sono altre scuole che vengono in questo circuito? Sì, esattamente, anche perché annualmente la polizia locale dedica come anche obiettivo 350 ore che non sono poche per l'educazionalità stradale. Assessore Zigiotto, un altro progetto che coinvolge le scuole? Sì, è un progetto che fa parte dell'educazione civica, progetto educazione stradale con la nostra polizia locale. Facciamo questi progetti nelle scuole perché i bambini devono imparare le regole, le regole nella vita e le regole che poi devono applicare anche quando sono in strada con le altre persone e per la sicurezza propria e anche di tutta la cittadinanza. Vicecomandante Berto, dove siamo e cosa state facendo? Qua siamo nel piazzale delle scuole elementari Fogazzaro, capoluogo di Azzignano, dove si svolgono la parte finale del corso di educazione stradale che si svolge in due parti. La prima parte è presso le scuole durante tutto l'anno scolastico e la fase finale dove tutti i ragazzi vengono qua e provano, mettono in pratica quello che hanno studiato, quello che i nostri agenti hanno insegnato a loro, lo mettono in pratica in questo bellissimo percorso scuola dotato di tutta la segnaletica stradale, semafori e quant'altro. Qual è secondo lei la prima regola stradale da insegnare ai bambini? Sicuramente ai bambini camminare sul marciapiede, rispettare le strisce pedonali e quando sono a bordo utilizzare fin da piccoli il centore di sicurezza. E secondo lei qual è l'errore che viene fatto maggiormente a livello stradale, anche dagli adulti? Ma sicuramente l'uso del telefonino e la velocità pericolosa, cioè la velocità eccessiva. D'altronde siamo in una società dove le macchine sono costruite con motori potenti, per cui la velocità nel tempo, anche relativamente ai mezzi, è aumentata, per cui limitare la velocità, utilizzare le cinture e non usare il telefonino. E da Patrizia Lovato per TV Web è tutto, alla prossima, ciao!